e attraverso la lettura dei suoi testi, dei suoi studi, dei suoi ricerchi. Questo incontro, l'incontro di questa sera, è l'ultimo di un ciclo che è stato sviluppato durante tutto il mese di maggio e dedicato al tema del lavoro all'interno delle attività del Polo del Novecento. Il tema del lavoro è stato affrontato da diversi punti di vista, dal punto di vista giuridico, dei cambiamenti che sono avvenuti sul piano normativo con il Jobs Act, è stato affrontato dal punto di vista delle relazioni sindacali, cioè di quello che significa oggi rappresentare un universo di lavoratori estremamente frammentato, flessibilizzato e disperso in situazioni complesse e diversissime. Abbiamo poi invece cercato di capire come si organizza il lavoro all'interno delle punte più avanzate dei modelli di produzione, dal fatto di 4.0, come sono cambiati i processi produttivi e per conseguenza i processi organizzativi. Questa sera finiamo con un dibattito in senso stretto, ma con una lezione che riguarderà, se ho ben capito, il tema dei nuovi o dei vecchi modelli organizzativi, dei modelli più presenti come fattori di interesse nazionale. In realtà si parla sempre molto poco di modelli organizzativi all'interno della politica economica dei nostri governi, non si parla quasi mai, si parla tanto di produttività e non si prova a capire da dove nasca o non nasca. Si parla di nuovi scenari dell'organizzazione, pensando alle punte più avanzate della tecnologia e spesso però non si sa che cosa realmente c'è attorno a noi. Vogliamo provare a sfogliare questa margherita? Grazie. Allora, io intanto vi ringrazio dell'invito in un posto così bello che non l'ho mai visto e soprattutto mi sembra ricco di prospettive, oltre alla bellezza e alla qualità dell'allestimento. Io ringrazio a chi è venuto, sono un po' imbarazzato, dicevo, perché sono qui in questa sala dei colleghi che di tutto quello di cui io parlerò ne sanno più di me, insomma, no? E quindi proverò a fare una cosa specifica che è quella di presentarvi una tesi, una tesi faziosa, insomma, no? Ecco che magari può provocare una discussione, no? Come sempre succede, la regia mi aveva invitato a preparare delle slide, io sono spaventatissimo delle slide, perché qualche... ecco, e ne ho preparate troppe, per cui vado molto velocemente e ve ne presento solo alcune, insomma, poi se voi mi onorate anche di volerle sfogliare, ovviamente sono a disposizione di tutti, insomma. Ecco, allora, siccome il tempo è poco, prima dobbiamo combattere con la tecnologia. Io ho schiacciato questa. No, mi spiace. Allora, la tesi anticipo, la tesi qual è? Ecco, i fenomeni organizzativi, cioè come sono organizzate le imprese, come sono organizzate le pubbliche amministrazioni, come sono organizzate le associazioni di volontariato, come sono organizzate le associazioni criminali, ecco, nel momento in particolare in cui noi viviamo, ecco, vengono interpretate attraverso, diciamo, attraverso culture soprattutto di carattere economico, di carattere politologico, insomma. Quindi, da questo punto di vista, anche se sta avvenendo tanto e se ci sono tutta una serie di problemi di carattere organizzativo, in realtà il focus sull'organizzazione è debole, insomma. Quindi il senso di questa mia provocazione è se approfondiamo, insomma, ecco, alcuni degli elementi di criticità o di novità, ecco, delle organizzazioni che abbiamo davanti, e io proverò soprattutto a concentrarmi su una di queste, non tutte, ecco, verifichiamo se sia possibile un'attenzione, io l'ho chiamata un'attenzione nazionale, no? Cioè, in qualche misura un percorso collaborativo, ma che abbia una dimensione, un respiro tale, ecco, da poter coinvolgere tutti quelli che studiano, operano e... Allora, il punto di partenza è un po' questo. Noi abbiamo alcune emergenze che ovviamente conosciamo molto bene, adesso parlavamo un attimo fa, il tema della immigrazione è un tema drammatico, insomma, ecco, noi ci troviamo di fronte al collasso delle organizzazioni dell'Europa, ecco, rispetto a questo tema drammatico, e al contrario alla straordinaria e inquietante efficienza delle organizzazioni criminali. Ci sono 60.000 persone che sono capaci di spostare esseri umani dal centro dell'Africa o dalle città bombardate della Siria, con una capacità organizzativa straordinaria, mentre in questo momento le organizzazioni dell'Europa, qualcuno dice che sono temi politici, sono temi societari, lo sono sicuramente, ma certamente un problema di questo genere richiederebbe una capacità di progettazione organizzativa che in questo momento non c'è. Le grandi imprese che chiudono o riducono, ecco, spesso tutto questo è visto in termini economici, insomma, no? Ecco, non tanto in termini di deficit interno. Abbiamo un numero, ci ritorno tra un attimo, di piccole e medie imprese malate in crisi che chiudono, insomma, no? E da questo punto di vista la vista prevalente è una vista, come si dice, ecologica, insomma, no? Ecco, quanti sono gli animali che moriranno, quanti sono gli animali che sopravviveranno, quali sono le azioni che possiamo fare in termini e poi non si fanno, ecco, di politica. Invece in qualche misura le piccole e medie imprese, che sono la quasi totalità delle imprese italiane, hanno una loro biologia interna, una loro natura interna, che è non solo ignota, non solo poco studiata, anche da noi che ci occupiamo di queste cose, ecco, in qualche misura l'economia aziendale, l'organizzazione aziendale, la sociologia dell'organizzazione che se ne hanno dato forfè, ecco, nella comprensione della biologia interna delle piccole e medie imprese, ma soprattutto non sono comprese da chi politica e fa, sia di carattere finanziario, sia di carattere tecnologico, sia... I tempi e la qualità della giustizia, insomma, è un tema ovviamente istituzionale, di efficienza e di valore per la società, e il calcolo, diciamo, dell'inefficienza della giustizia, ecco, oscilla tra l'1,5% o il 2% del PIL, insomma, ecco, io poi ve ne parlerò, ecco, sono stato coinvolto negli ultimi 4-5 anni a guardare dentro le macchine organizzative degli uffici giudiziari, dei tribunali, delle procure, ecco, e di questo tema, ecco, fondamentalmente non c'è attenzione pubblica, poi, come dirò, ci sono stati dei progetti di grande interesse. La pubblica amministrazione è un tema visto in termini, recentemente Cassese scrive un bellissimo articolo, ecco, in cui dice il diritto amministrativo e l'eccesso di normazione, ecco, che, come dire, si sostituisce in qualche misura alla capacità di gestione, sta ulteriormente rendendo difficile la gestione, ma soprattutto sta rendendo difficile i processi di cambiamento e di innovazione radicale che sono necessari. Allora, se apriamo le prime pagine del giornale, tutti questi temi li troviamo, ma li troviamo, ecco, rubricati sotto dimensioni, categorie economiche, politologiche, tecnologiche, ecco, ma non di tipo organizzativo. A fronte di questo che ci inquieta, insomma, perché sono delle emergenze di cui chi di noi ha più competenza su queste cose ne coglie il potenziale di miglioramento, noi abbiamo invece, lo accennava ad un astrologo all'inizio, ecco, abbiamo una quantità di innovazioni organizzative in corso che sono davvero sorprendente. Ecco, da una parte questo tema, ecco, delle imprese che operavano in rete, insomma, no? Ecco, che avevamo iniziato vent'anni fa a studiare, oggi è una realtà resa tremendamente, diciamo, più potenziata dalla disponibilità di tecnologie. Quindi, da questo punto di vista, alla domanda che cosa fa una impresa, ecco, noi non possiamo dare risposte se non capiamo in quale punto della rete è collocata e che tipo di relazioni hanno in te. Su questo tema, non solo le grandi imprese che hanno, come si diceva una volta, hanno decentrato, insomma, si avvalgono di su forniture, insomma, le piccole imprese che sono in relazione fra di loro, le medie imprese che si avvalgono, ecco, tutto questo, ecco, ci offre un quadro, ecco, del funzionamento dell'impresa molto rilevante e molto innovativo. Parlerò poi subito dopo delle caratteristiche soprattutto di queste medie imprese che hanno avuto successo, insomma, queste medie imprese di medio banca, come si usa a dire, insomma, ecco, queste imprese che si sono internazionalizzate, che si sono migliorate, noi le abbiamo studiate, poi ci ritorno, ecco, per dire, ci sono dei paradigmi e delle spiegazioni del perché hanno avuto successo, ecco, che probabilmente sono meno note, ecco, invece delle proprie caratteristiche economiche o di marketing, no? Il WCM e la Lean Production è stata una delle grandi, diciamo, trasformazioni, non solo delle grandi imprese, qui siamo a Torino, evidentemente, in un luogo dove questo tipo di approccio è stato approfondito, insomma, ecco, ma anche medie imprese in tutta Italia stanno adottando questi approcci che non sono l'adozione di tecniche e metodologie giapponesi, come voi mi insegnate, insomma, no, ma sono visioni, diciamo, di funzionamento, di culture, di modi di operare, di combinare tecnologie e organizzazioni di tipo assolutamente nuovo. La Industria 4.0, ecco, che oggi ci inquieta perché è davvero un terreno di innovazione straordinaria. Queste fabbriche, come si può dire, altamente digitalizzate, sono davvero sconvolgenti per l'aeronomità, che si può dire che è un terreno di produttivo. Beppe Berca ha scritto un bellissimo libro su come si presentano oggi le strutture produttive. Ecco, questa tematica di come il digitale, la meccanica, l'organizzazione, i nuovi mestieri, le nuove professioni e questi dispositivi chiamati Internet of Things, che sono dispositivi che fanno parlare tra di loro gli oggetti, e davvero una, io non credo che sia una rivoluzione, una terza, una quarta rivoluzione industriale, ma certamente ha un potenziale di novità che è straordinariamente forte. Tutte le cose di cui sto parlando sono delle cose che conosciamo, che conosciamo non a fondo. Conosciamo nel senso che avvengono, la stampa, non solo quella specializzata, ne fa qualche riferimento, quello che ci manca, adesso ci ritorno in qualche misura di concordare qual è il razionale di tutto questo e soprattutto capire il tema della diffusione. La sharing economy, la sharing organization, un'altra area innovativa, insomma, la corrisione delle case, delle auto, del lavoro, attraverso i social media, insomma, le pubbliche amministrazioni che funzionano sono tante, sono, forse non dico che sono più, ma sono numerose. Poi ci sono quelle addirittura eroiche, insomma, no? Ecco, la marina militare che sta operando nel Mediterraneo sta dal punto di vista organizzativo, oltre... Io per organizzazione intendo tutto, anche l'etica, ecco, dell'organizzazione, la missione dell'organizzazione, sta facendo delle cose che sono davvero senza precedenti, no? Il comune di Lampedusa, il sindaco di Lampedusa, è non solo una persona straordinaria, ma è una rappresentazione di un'eccellenza, insomma, di che cosa può essere una pubblica amministrazione locale di fronte ad una emergenza. La reazione della regione Emilia-Romagna dopo il terremoto è una storia straordinaria in cui in poco tempo, entro settembre, si sono state ricostruite le scuole facendo lavorare insieme tutti quelli che devono lavorare, cioè la pubblica amministrazione, le aziende, con tutti i problemi che noi conosciamo, inclusa le infiltrazioni dell'andrangheta. E ultimo, but not least, è il tema della trasformazione del lavoro, su cui io non voglio adesso particolarmente approfondire, noi ci troviamo di fronte a delle forme di lavoro senza precedenti, con delle criticità drammatiche, ma anche con delle caratterizzazioni diverse. Non abbiamo più le categorie tradizionali, anche se il nostro codice civile ci ripropone lo stesso tipo di classificazione. Ecco, siamo di fronte a dei lavori mutanti da questo punto di vista a cui rischiamo di non dare nulla. Faccio questo elenco molto superficiale per dire una cosa, per dire che noi da una parte abbiamo dei fenomeni di gravità nazionale, dall'altra parte abbiamo degli esempi straordinari, ecco, la cultura, le esperienze, le capacità di questi esempi migliori non si trasferiscono in una maniera adeguata sul resto del paese. Ecco, a fronte di queste straordinarie imprese le altre imprese non sanno che cosa hanno fatto quelle che hanno avuto successo. A fronte delle capacità organizzative della regione Emilia Romagna o del comune di Lampedusa il resto della pubblica amministrazione è impantanato dietro i regolamenti, dietro le norme, dietro le forme deteriori dell'edito amministrativo. Allora, qual è la proposta? La proposta è quella di dire che questa operazione di comunicazione che avviene attraverso canali scientifici, canali culturali, anche canali dei media che si stanno occupando di queste cose non è sufficiente. Non è sufficiente. Cioè, è necessario perché tutta questa ricchezza di esempi straordinari ecco, in qualche misura diventi qualcosa che produca dei risultati in termini economici, in termini sociali, eccetera, ecco, ci vuole un'azione, ci vuole una mano esplicita. Questa non è una cosa nuova. Quando nel 1950 il Giappone esce dalla guerra e una delle sue aziende, che era un'azienda scassatissima, che faceva delle automobili che non voleva nessuno, le producevano solo perché c'era il protezionismo di cui non faccio il nome, ecco, quando questa azienda insieme con le altre comincia a sviluppare delle forme di organizzazione, di gestione, di cultura organizzativa, ecco, che diventano una cosa nuova e a cui loro non danno il nome, La Lean Production l'hanno battizzata agli americani, non loro. Però che cosa fanno? Inventano il Giuse, inventano un istituto che produce cultura, che diffonde cultura, che fa consulenza alle altre imprese con il risultato di avere un processo diffusivo proprio sulle dimensioni organizzative, non sto a dire sulle dimensioni organizzative, i processi, le strutture, l'organizzazione, i ruoli, i modi di lavorare insieme, i sistemi di controllo di gestione e così via di seguito. In una situazione in quel tempo ancora dove le tecnologie non avevano questa esplosiva. Quindi questo è avvenuto in alcuni paesi. Allora, io credo che da questo punto di vista l'idea di sottoporre diciamo a qualche scrutinio, a qualche, ecco, questa, di generare un impegno collettivo mi pare che sia un tema importante. Parliamo delle imprese, no? Questo è uno studio di Susan Bell che molti di voi conoscono, Susan Bell che ha studiato 500 aziende, quelle che ce la fanno in qualche misura sono aziende che hanno saputo fare queste cose, che hanno queste caratteristiche, hanno un'offerta innovativa, hanno una qualità elevata, fanno il miglioramento continuo, fanno l'efficienza, gestiscono in maniera ottimale la supply chain, sono capaci di valorizzare il design, hanno una custom orientation e così via di seguito. Siamo internazionalizzati. tutte queste dimensioni, insomma, che in qualche misura definiscono, ecco, che cosa è l'impresa che può avere successo e che cosa è l'impresa che non la può avere, insomma, è un messaggio importante, significativo, significativo, su cui dobbiamo discutere. Noi da una parte abbiamo una quantità di innovazioni significative, ma in qualche misura il modello dominante che domina i nostri sistemi di formazione, che domina i nostri sistemi di relazione industriale, che domina la nostra legislazione e in qualche misura ancora fortemente delineata dal post-fordismo. in questo libro recente che ho letto di... mi ricordi che parlavamo su Industri 4.0, questo bel libro della... mi sfugge il nome, insomma, no? Va bene. Sì, sì, ecco, un libro che a me è piaciuto, insomma, ecco, lei parla di questo post-fordismo aumentato, insomma, questo fordismo... Allora, nel post-fordismo ci siamo entrati, lo citava, lo citava Dunia Astro, ci siamo battuti per tenersi alle spalle, ma che cosa avviene dopo? Non solo non lo sappiamo, ma non abbiamo una capacità di rappresentazione. Allora, il tema è ci sono paradigmi nella produzione di beni e servizi, magari più due, anzi, sicuramente più due, insomma, che possono diventare una fonte culturale di riproduzione e di diffusione, oltre a raccontare le storie di successo che sono importanti. Ci sono dei metodi utilizzabili, insomma, che non sono la consulenza tradizionale, che non sono mandare la gente a scuola per imparare le tecniche, insomma, una cosa importante, no? E il punto fondamentale è come si fa a fare in modo tale che quelli che sono stati casi eccezionali diventano cantieri, diventano progetti che possono essere riprodotti, insomma. Allora, io da questo punto di vista faccio un'osservazione proprio di, non provata da nulla, insomma, ho l'impressione che la nostra capacità come paese, insomma, ecco, di svilupparsi è la capacità di aprire dei cantieri, di aprire dei progetti dove l'orientamento al fine, i tempi che ci si dà, la combinazione delle azioni per ottenere dei risultati, la combinazione degli interessi contrapposti che però, come dire, hanno poi un riferimento specifico a un risultato, sia l'elemento più importante. C'è un elemento un po' autobiografico su questo, io ricordo delle cose quasi impossibili, insomma, in cui ho avuto la fortuna di trovarmi implicato da quelle su cui ho imparato a lavorare, che era la costruzione delle isole dell'Olivetti, insomma, che è stata una cosa in cui c'era un'azienda che doveva morire, insomma, la Olimpia che era più grande dell'Olivetti morì, insomma, perché dalla sera alla mattina ha cambiata la tecnologia, insomma, e si sviluppò uno straordinario percorso di un progetto che attivò gli ingegneri, i tecnici e poi i sindacalisti e poi gli uomini del studio, eccetera, eccetera. Ecco, la progettazione degli uffici delle entrate, insomma, ecco, di molti anni fa, un luogo drammaticamente inefficiente, insomma, ottenuto non per norme, insomma, ma mettendo intorno a un tavolo persone, dirigenti, quadri, sindacalisti, insomma, ecco, e ottenere dei risultati in quel momento sorprendenti, poi li hanno un po' abbandonati da questo punto di vista, mi sembra che sia un percorso significativo. Questo esempio dei tribunali che vi dicevo, insomma, alcuni dei progetti che sono stati sviluppati dentro un frame, che è stato un frame di un progetto europeo, un progetto promosso dal ministero della pubblica istituzione, dal ministero della giustizia e dal ministero dell'amministrazione e dalle regioni, ecco, questi cantieri, alcuni di questi, hanno prodotto dei risultati impressionanti con le stesse persone, con le stesse risorse che affliggono in questo momento il sistema giudiziario italiano, cioè senza risorse in più, quindi con magistrati che sanno fare i giuristi che non sanno fare gli organizzatori, con cancellieri che sono grandi esperti delle loro procedure, con persone che non capiscono l'informatica, eccetera, eccetera, ecco, attivare dei progetti determina un mutamento e soprattutto genera delle persone che vanno a, in qualche misura, fertilizzare. Quindi da questo i percorsi di diffusione e programmi di formazione. Mi fermo solo su un punto. Mi pare che, diciamo, ci sono tre aree, a mio avviso, rilevanti di innovazioni organizzative che potrebbero prestarsi a questa operazione, diciamo, è una e sicuramente, diciamo, l'area delle imprese non solo queste medie eccellenti, ma quelle che da questo tipo di esperienze possono imparare. La pubblica amministrazione in rete, ma non intendo la pubblica amministrazione che si provvede delle giuste strutture informatiche ecco, per la interoperabilità, ma le pubbliche amministrazioni che siano orientate al servizio, che questa purtroppo è una drammatica eccezione, ma ci sono anche. E l'altro, il tema dei grandi cantieri, come progettare il lavoro, è così grande quest'ultimo punto che io non lo tocco, insomma, non lo tocco perché magari se mi invitate vi dico che cosa penso la prossima volta, ma quando io sento il mio amico Micelli che dice che il futuro è artigiano a me mi viene un po' i brividi, insomma, poi il suo libro è molto graziato, insomma, ecco, molto piacevole, insomma, ecco, ma noi non abbiamo un futuro artigiano, insomma, ecco, per quelli che propongono, faccio una diversione, il futuro digitale, la domanda era, ecco, nella, in questi percorsi, dire a un giovane che deve avviarsi, non solo a misurarsi con i risultati del lavoro, ma con la sua vita, ecco, dire che c'è un futuro digitale, oppure che deve aprire una start-up, ecco, è una cosa che assomiglia ad una violenza culturale, ma questo problema lo vediamo dopo. Tocco il primo punto, se ancora avete pazienza. Allora, il primo tema, aiuto? questo disegno che era preparato non per voi, ma per un pubblico, ecco, dice che c'è un modello emergente che non è fatto di cose strutturate, insomma, ma di tante cose piccole, come in questo caso sono degli storni, insomma, degli sciami che si muovono, che a un certo punto costruiscono un tanto delle figure che piacciono a loro, ma loro non lo sanno che è una figura, ecco, ma sicuramente c'è una logica del loro emigrare, sopravvivere, nutriversi, eccetera. Allora, l'ipotesi che noi abbiamo fatto in alcune ricerche è che probabilmente sta emergendo, diciamo, un modello di organizzazione, insomma, ecco, che abbiamo battezzato Italian Way of Doing Industry per distinguere dal made in Italy, il made in Italy benissimo, fa pensare sempre alla moda, al fashion, eccetera, stiamo parlando di tutte le imprese, ecco, e le abbiamo studiate, bisogna che lì mi aiutano, dove devo puntare? Ecco, stiamo avanti, questo tocca non solo le singole imprese, ma tocca le reti e le piattaforme, salto queste cose che voi mi insegnate, sì, vado avanti, vado avanti, vado avanti, ecco, allora, questi sono alcuni profili di quello che a noi è sembrato delle caratteristiche di queste imprese che hanno avuto successo, che tutti conosciamo, insomma, e che sono degli elementi riproducibili, insomma, degli elenco molto rapidamente. Il primo, queste sono imprese che hanno sviluppato prodotti e servizi di qualità, ecco, dove questa qualità è stata misurata da un mercato, insomma, non è stata misurata dall'eccellenza tecnica dell'avere la macchina più efficiente o un sistema di controllo di qualità migliore, insomma, e quindi questa, l'idea di queste imprese che producono, sapendo che produrre prodotti di qualità o servizi di qualità medi, vuol dire essere spazzati via perché altri paesi con un costo del lavoro più basso sono più capaci di farlo, insomma. Allora, questa cosa sta diventando un mantra in qualche misura, però andare a scoprire attraverso quali percorsi, attraverso quali meccanismi, che vuol dire l'innovazione, l'open innovation, il disegno dei processi, l'uso appropriato delle tecnologie, l'uso del lavoro qualificato, chiamiamolo come vogliamo, ecco, attraverso quali meccanismi ecco, il prodotto di qualità che riesce ad essere venduto perché è apprezzato, perché può essere venduto a un prezzo più elevato della concorrenza e così via. Allora, questo è un primo elemento di trasferibilità. Il secondo è una straordinaria cultura del servizio al cliente, insomma, ecco, questa passione, ossessione, molte di queste imprese più note, da Gucci alla Ducati, a Illy, insomma, sono ossessionati nel capire il cliente cosa vuole. E questa cosa, in qualche caso, soprattutto le aziende più grandi hanno degradato nei termini di usare delle metodologie di customer survey che pure servono, insomma, ecco, invece questa cosa ha penetrato integralmente tutti quante le strutture di queste aziende. Abbiamo visto queste cose in cui dall'amministratore delegato all'operario che non vede il cliente, insomma, ma che sa che quello che fa finisce il cliente, ecco, ha qualche cosa con il rapporto con il cliente. Questa capacità di ascolto della clientela, queste aziende hanno cambiato prodotto, posizionamento, collocazione, proprio in relazione ad una modalità proteica, ecco, di operare, cioè cambiare in funzione di quello che, faccio degli elenchi che dicono quanto è diverso questo modello da quello che noi si internalizzo cercando di coprire mercati non coperti, fanno un'innovazione non solo tecnologica ma organizzativa, gestionale, culturale, di marketing molto elevata, quello che Pasquale Pistoli chiamava l'innovazione a 360 gradi, insomma, e hanno delle, sono nodi di reti, nodi vitali che rispettano anche le altre, le altre, abbiamo fatto un lungo lavoro tanti anni fa per vedere come si passava dalle imprese transazionali alle imprese reti, queste lo sanno fare, dicono, parlo con Vittorio Tesio in cui abbiamo fatto tanto tempo fa un progetto di questo genere e volevamo insegnare allora alla Fiat come si faceva a passare da un'azienda che decentrava a un'azienda che teneva vitali tutti i nodi, poi la Fiat lo ha fatto, insomma, quando lo abbiamo fatto era troppo anticipato, queste aziende lo sanno fare hanno strutture, le abbiamo chiamate nel tempo organiche, insomma, non sono macchine, non sono strutture basate sulla cooperazione, sulla condivisione delle conoscenze, sul senso della comunità, sul senso dell'orientamento all'obiettivo, con questa grande capacità di cambiare. Hanno un'anima, quest'anima diventa qualche volta anche marketing, ma quest'anima è spesso interna loro e hanno una buona qualità di relazioni industriali e sono aziende che hanno promosso, sostenuto, tollerato delle forme di professionalità emergenti senza comprimerle, insomma, ecco, allora non è, non sono aziende che hanno premiato il designer o hanno premiato solo il grande esperto di informatica, insomma, hanno capito ecco che il lavoro stava cambiando e in qualche misura oltre a, come dire, gestirlo, lo dovevano in qualche misura, ne dovevano essere influenzati, no? Quindi sono un po' come ci hanno insegnato noi delle expert dependent organization, delle organizzazioni che hanno più protetto gli esperti, insomma, esperti talvolta esperti molto sofisticati, talvolta. Allora, perché vi ho raccontato queste cose che voi conoscete meglio, meglio di me, no? Per dire, andiamo, andiamo avanti, per dire quanto di esperienze di questo genere siano trasferibili, siano trasferibili e siano rappresentabili. Allora, raccontare la storia di Tecnogym è una storia meravigliosa, però l'azienda Bottazzi, Viti e Bulloni, insomma, Bottazzi che vuole fare la cosa in Tecnogym non ci riesce, insomma, anche perché la narrativa, insomma, ecco, di questa è una narrativa che punta più sull'imprenditore che non sulle dimensioni organizzative. Fatto questo esempio, non a caso, un giorno mi ha telefonato, io non lo conoscevo, mi ha telefonato a Merio Alessandri, il patrone di Tecnogym e mi ha detto professore, vieni a farci una conferenza sulla fiducia il 27, no, il 27 non posso, ma dico, ma scusi, ma perché lei vuole, e io però lo sapevo, lui si era venduto il 30% delle quote e i suoi dirigenti erano arrabbiati di vedere il bici, e loro hanno detto io non posso vedere, però le posso dare un consiglio, dico, io non la conosco o non conosco la sua azienda, però quello che io leggo sulla sua azienda è che lei è proprio brava, lui è un apprenditore bravissimo, però quello che lei fa lo possono fare anche gli altri, insomma, il tempo in cui vi siete sviluppati mi pare che anche una persona brava come lei non è, allora qual è il segreto di questa, non è che per caso è il segreto di questo suo gruppo dirigente e delle azioni organizzative, tecnologiche, gestionali che voi avete attivato, lei l'ha fatto una storia dello sviluppo, ha taciuto pochino poi mi ha detto no, dico, allora guarda, risparmi il professor Butera che non servirebbe a questa, utilizzi questa giornata per fare un'analisi con i suoi di qual è stato il processo, il percorso, la struttura organizzativa e i valori con cui voi siete arrivati a questo punto e forse i suoi dirigenti saranno più contenti di questo che non sentire delle conferenze a strada, mi ha telefonato dopo dieci giorni, mi ha detto è stato molto utile, l'abbiamo fatto e funziona, questo non è il caso di Nero, questo è il caso di tutte le aziende di cui conosciamo gli eroi, ecco, ma non conosciamo il percorso, allora qual è il punto? se il 95% delle aziende italiane piccole e medie che sono in difficoltà, molte delle quali vogliono, ecco, hanno bisogno di aiuto, ecco, che cosa gli trasferiamo? insomma, ecco, sicuramente gli trasferiamo tecnologie, ma sono appropriate alle loro? Sicuramente finanziamenti, quindi credito, sicuramente, ma è appropriato a loro attività di formazione spesso fatte in maniera ripetitiva, in maniera stratta, perché non riusciamo a trasferire, ecco, le caratteristiche di quelle aziende che ce l'hanno fatto. Allora, Henry Ford era stato capace di farlo, non solo aveva inventato un sistema che ha avuto successo, l'abbiamo studiato tutti, ma ha avuto una capacità, naturalmente non da solo, ma insieme con le istituzioni del paese, ecco, di trasferire nel bene, trasferire al paese alcune competenze, conoscenze specifiche, tecnologie, modalità che consentiva, hanno consentito all'industria non solo americana, ma tutta l'industria mondiale di impadronirsi di questa. I giapponesi con il WCM hanno fatto la stessa cosa, se esiste un Italian way of doing industry, che ha in pancia le tecnologie, che ha in pancia tutto quello che noi vogliamo, ecco, che cosa facciamo per non raccontarla in maniera astratta, ma per farla diventare un oggetto di possesso. Le slide sono lunghissime e io non ve le faccio vedere, vado alla fine, però ho bisogno dell'aiuto, ecco, andiamo, andiamo su, vado alla fine, 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 questa è una presentazione per un tempo lungo e per una audience, vado avanti, vado avanti, vado avanti, qui ci sono tutta una serie di segreti che noi abbiamo scoperto che sono raccontabili, utilizzabili, comunicabili, e vado avanti, guarda, proprio scende in fondo, la pubblica amministrazione è scelta, corre, corre, ecco, fermo, torno indietro, torno indietro, torno indietro, torno indietro, torno indietro, torno indietro, avanti, perfetto. Allora, saltando dei passaggi che dicono che queste cose noi le sappiamo, le sappiamo non solo noi studiosi, ma le sanno gli operativi, le sanno gli imprenditori, le sanno i tecnici, le sanno i sindacalisti, insomma, e rispetto a questa cosa la domanda è come possiamo fare in modo tale che non ci sia esclusivamente questa diffusione che è lenta rispetto ai tempi e rispetto ai problemi che ha il paese, come si fa ad accelerare tutto questo? insomma, questo è un po' il punto. Allora, qualcuno pensa che per accelerare bisogna fare degli investimenti necessari, qualcuno pensa che bisogna modificare le norme e questo è necessario, questo qualcuno ritiene che ci sia una necessità di intervenire sulla manovra fiscale, sono tutte cose interessanti, ma sono tutti elementi in qualche misura come il calore dell'uovo, il calore che circonda l'uovo che deve schiudere, insomma, ecco, se c'è troppo freddo l'uovo non schiude, insomma, se c'è troppo caldo l'uovo muore, ma se l'uovo non è biologicamente fecondato, anche se c'è la temperatura giusta, non viene fuori niente. Noi abbiamo un problema di questo genere, insomma, un problema di attivare meccanismi e procedimenti organizzativi, culturali, lavorativi, tali, ecco, che consentano a un numero molto elevato di imprese, a un numero molto elevato di pubblica amministrazione di fare quello che hanno fatto gli altri, insomma. Allora, a me sono venute in mente queste cose che sono vicine alla fantasia che solo una persona anziana come me può tirar fuori, insomma. Allora, la prima idea è alcune politiche pubbliche che si aggiungono a quelle di natura economica, giuridica, eccetera, che non discute, alcune politiche pubbliche che potrebbero essere tese alla promozione di risorse, di beni comuni, di infrastrutture che favoriscano l'innovazione organizzativa delle imprese, delle pubbliche amministrazioni, delle organizzazioni non profit. Noi abbiamo bisogno della potenziare potenziare la la le tecnologie della banda larga, sicuramente è una struttura molto importante, noi abbiamo bisogno di intervenire sulle grandi infrastrutture del paese, ma l'informatica che serve alle piccole e medie imprese, l'informatica che serve al piccolo comune di Pietra Persia, ecco, che al momento in cui ci fosse dovrebbe essere integrato dalla competenza, dalla formazione, dal controllo di gestione, dalla capacità. Come si fa? Allora, le infrastrutture offerte in modo da contestualizzare dei servizi resi ai singoli soggetti. Quindi noi abbiamo in questo momento una batteria di ricerche e di studi policy-oriented molto importante. Vanno, a mio avviso, meglio visualizzati, meglio socializzati, chiamando a collaborare istituzioni, imprese, università, centri di ricerca, associazioni imprenditoriali, sistemi di imprese. Oggi questo avviene sui singoli progetti, però i singoli progetti sono pochi, sono i centofiori, insomma, ecco, i centofiori devono diventare 10 milioni di fiori, insomma, e da centofiori a 10 milioni di fiori la diffusione spontanea non avviene. Allora, una proposta è, sarebbe opportuno, per esempio, costituire una consulta ad alto livello, come quella che Atalia aveva costituito per l'innovazione, che affronti i problemi di questa, una consulta molto molto alta, molto molto indipendente, insomma, un comitato di monitoraggio dei programmi a sostegno delle imprese, che sono tanti, i soldi sono tantissimi, ecco, che faccia un monitoraggio della qualità dell'intervento, come sta avvenendo in Germania, in Francia, in Danimarca, che non sia soltanto il controllo della spesa del Fondo Sociale Europeo che esiste già, insomma, ma sia qualcuno che vada a vedere non se è stata spesa correttamente se non ci sono stati storni, ecco, ma se i risultati sono stati ottenuti. Vi faccio un esempio concreto di questo tema che ho seguito negli ultimi anni, questo tema sui tribunali, c'è una macchina mondiale che controlla che i fondi attribuiti a questo progetto siano stati spesi bene, ma nessun controllo sulla qualità del risultato e nessun feedback poi, ecco, questa cosa avviene in maniera spontanea. Quindi i fondi sociali europei, i fondi interprofessionali che sono enormi, ecco, da questo punto di vista potrebbero identificare delle risorse da focalizzare in questa direzione. C'è un ultimo esempio, per esempio, all'Exposta per partire la Human Technopole in mezzo a tante polemiche, ma avverrà, sarà una cosa buona, io dico che non è un istituto scientifico, quello che viene, ma è un grande parco scientifico e tecnologico che forse non è stato ben messo a fuoco, che cosa, che comunque ha un focus. Allora, un'idea che ho lanciato è perché non apriamo un ragionamento sulla Human Side of Human Technopole, cioè sulle dimensioni organizzative, umane, culturali, valoriali di un'impresa che se funziona è un'impresa che cambierà il lavoro della gente, cambierà la cultura delle persone, cambierà il modo con cui le imprese entreranno in rapporto con questa struttura, cambierà l'organizzazione delle università, cambierà l'organizzazione del CNR, non soltanto l'organizzazione dell'IIT. Su questa cosa non c'è un progetto. Mi permetto di presentare queste idee un po'. Programmi nazionali e regionali per promuovere servizi alle PMI ci sono, ecco, però la cosa importante è che, per esempio, quello che dicevo prima, la natura delle aziende, soprattutto più piccole, è meno nota e quindi da questo punto di vista di che cosa hanno bisogno queste aziende la banca lo sa poco, la società di informatica gli vende la tecnologia che ha venduto la telecom, le società di consulenza non si avvicinano perché le FI sono troppo basse, le università offrono dei servizi spesso che servono più agli studenti o ai ricercatori per fare carriera che non alle loro imprese, allora da questo punto di vista la domanda è apriamo un ragionamento sui servizi che non possono che essere contestuali, dico una cosa che altre discipline prima dell'organizzazione hanno conosciuto, cioè la medicina parte dalla 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 nascita della clinica, Foucault spiega che prima gli ospedali non esistevano prima i medici erano dei cavasangue insomma erano dei allora quando avviene il salto della medicina in due momenti no? Nel momento in cui c'è un processo scientifico in cui invece di guardare ai sintomi o agli elementi comuni ecco si guarda alle cause generative lo spiega Foucault è secondo quando nasce la clinica quindi ogni soggetto malato merita una sua attenzione ovviamente nel quadro delle conoscenze condivise qui la proposta che mi viene di fare è ci vorrebbe la clinica universitaria la clinica organizzativa voi mi direte ma le società di consulenza lo sanno fare? Sì ma le società di informatica chiamate per risolvere lo sanno fare? Sì il programma di sviluppo del bacino montano di Pincopallo lo sa fare sì peccato che queste cose non si diffondono insomma e quindi la capacità di usare questo come approccio come un approccio generalizzato non si diffonde e il tema di attivare cantieri che aiutino insomma le imprese a svilupparsi e un ultimo punto per quanto riguarda la pubblica amministrazione l'ipotesi di pensare che sia possibile un progetto nazionale insomma che non definisca i contenuti specifici della legislazione ma che crei delle condizioni di animazione e di sviluppo questa cosa l'ha fatta Clinton e Gore negli Stati Uniti insomma con dei risultati impressionanti insomma e con una capacità di coinvolgere tutte le amministrazioni centrali e anche periferiche con questo patto insomma ecco voi fate dei progetti per migliorare le cose le misuriamo insomma otteniamo dei risultati concreti noi vi offriamo un ombrello insomma un ombrello normativo un ombrello economico un ombrello anche di sostegno culturale costituiamo queste strutture e identifichiamo anche un percorso invece più top down che era quello della tecnologia questo percorso ha tirato fuori dei numeri impressionanti insomma 340.000 persone ricollocate centinaia di migliaia di insomma di norme che sono state eliminate e così di seguito il dubbio di queste cose è che questo non ha una resa politica no no Gore ha preso più voti alle elezioni della presidenza degli Stati Uniti di quanto ne abbia preso il suo competitor poi con la vicenda della Florida ha perso lui e ha perso anche lui perché questa è la cosa quindi chi dovesse mettere mano insomma ecco ad una operazione di intervento sulla pubblica amministrazione probabilmente potrebbe fare una cosa di questo tipo tenendo conto che alcuni progetti di questo tipo ci sono già ci sono i beni culturali ho citato la questione dei tribunali insomma ci sono dei percorsi dei progetti molto virtuosi nella sanità la domanda è come portarli ad unità e allora l'ultimo punto è se l'azienda IMA di di Bologna insomma che è cresciuta e ha avuto un grande successo insomma ha imparato tante cose da quel modello insomma e ha imparato anche a impossessarsi di tecniche di strumenti che sono stati sviluppati anche in imprese più grandi insomma IMA insieme a tante cose che ho raccontato ha un sistema di WCM simile a quello della della FCA diverso ma le technicality le ha usate insomma allora la domanda è da questo punto di vista un modello di management privato e pubblico che sia anche dotato di strumentazioni e che non siano strumentazioni on the shelves insomma in cui uno prende le tecniche più avanzate più evolute vendute magari in una maniera scollegata magari a prezzi elevati ma che vadano a concentrarci in qualche misura in un intervento progettuale e critico e clinico chiudo e chiedo scusa se l'ho fatta troppo lunga insomma ma l'occasione è importante per aprire una discussione tra di noi insomma possiamo accendere di un'occasione di un'occasione di un'occasione e ovvio che le domande sono gravite e risposte a quelli che se poi i dati di un'occasione posso partire io quest'ultimo punto mi interessava particolarmente perché secondo me se c'è un deficit nel nel livello medio diciamo delle piccole medie imprese le loro capacità di innovazione di promozione e di accrescimento della produttività molto dipende dai modelli culturali del loro management che può essere giustificato dal fatto che molte di queste aziende sono aziende familiari con una cultura più imprenditoriale che non manageriale però in linea di massima e anche nelle aziende più grandi mi è capitato di riscontrare un livello di cultura organizzativa e di cultura del fattore umano molto bassa però è un'osservazione molto poco scientifica un'osservazione personale che cosa ne può dire chi invece ha fatto ricerca specifica di questo tema rispondo brevemente è proprio così è proprio così questo deficit di cultura però ahimè drammaticamente riguarda il 96% delle imprese italiane allora chi che si occupa di un problema così questo è il punto insomma allora noi abbiamo fatto ricerca qualcuno ha fatto degli interventi qualche azienda è cresciuta eccetera eccetera ma questa è un'emergenza oppure no allora come si affronta insomma allora quello che stiamo vedendo in qualche misura è che l'insieme dei deficit culturali della mancanza di una managerialità dentro le imprese più piccole insomma di una disordine perché l'idea è che per avere l'ordine bisogna fare un'organizzazione gerarchico formale che non regge ma ce n'è un'altra possibile che fanno ma non sanno che cos'è le persone che lavorano all'interno non si sa che cosa fanno ma noi che abbiamo l'occhio esperto gli diamo un nome ma non è importante che gli diamo un nome glielo dovrebbero dare loro insomma e allora da questo punto di vista la domanda è come si fa aiutare ad aiutare su una scala enorme perché stiamo parlando non di un intervento isolato a creare una situazione di managerialità nelle imprese minori senza scatenare il timore dell'imprenditore che gli rubino l'azienda o che prima ci sono dei modi ecco questi modi non sono legittimati non sono conosciuti non sono diffusi come si fa a fare la formazione degli imprenditori allora ci sono degli esempi molto interessanti adesso Lombarda ha fatto con l'aiuto del Politecnico da Milano un'esperienza molto interessante è il fatto della formazione breve per gli imprenditori facendo in modo non di fargli i corsi sul controllo di gestione sulla strategia ma partendo dai loro problemi questo ha un nome si chiama problem based learning che ha delle tecnologie invece di usare i soldi per fare delle cose inutili attiviamo con l'aiuto delle università dei centri di ricerca eccetera delle cose che partono di questi esempi ce ne sono non centinaia ma forse migliaia ma questa cosa non è all'ordine del giorno come si fa a costituire a riconoscere che il lavoro di gruppo che la gente fa è parte costitutiva di una piccola e media impresa e che non sia il fatto occasionale insomma ma che sia l'elemento strutturale allora la NASA ha dato un nome a questa cosa le chiamano ex-teams che sono dei teams che hanno delle regolarità e che hanno come missione di non chiudersi all'interno ma di parlare con il resto del mondo e quelli che partecipano a questo team il team è il loro cioè non è un team di altri una piccola azienda che io ho conosciuto che lavorava in questo modo però era un'azienda in cui c'era quasi il solco ecco dell'ingresso nella stanza del capo perché tutti prima di pigliare una decisione andavano a chiedere a lui che cosa dovevano fare c'era un lavoro di gruppo ma le decisioni non le pigliamo tutte queste cose si possono modificare un'informatica o meglio diciamo strumenti di web che sostengono la cooperazione che sostengono l'apprendimento che sostengono anche una formazione più divertente più 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 ecco sono disponibili da questo punto di vista peccato che molte di queste cose le fa la Pirelli devono fare qui 95 allora questo è un problema nazionale io ho tirato fuori delle cose che poi mi aspetto di essere fucilato per la sua per l'ingenuità o per la no ma come scusa visto che tu hai solicitato il figlio ricco grazie e in questo aspetto tu hai indicato la consulta cioè organismi nazionali sempre da un problema nel rapporto con la pubblica amministrazione è che per correggere i difetti maggiori i costi maggiori della pubblica amministrazione si è sempre creato cercando di creare degli organismi straordinari esterni all'amministrazione però determinando dall'altra parte un rigetto da parte dell'interno nazionale stessa questo già anni fa Fabrizio Barcon per esempio ho chiamato l'attenzione allora a me può tornare benissimo ma come facciamo poi a far circolare dentro le strutture dell'amministrazione questi progetti queste esperienze questo è il punto che non restino confinati in in un ambito di una commissione altrimenti specializzate così via di super esperti che però poi non riescono a far passare gli impulsi innovativi dentro il grande porto amministrativo quello che sia un po' quello il punto per riuscire a permeare l'amministrazione senza farlo percepire ad essa che si tratta di un logono separato di un potere straordinario che dunque ha di fondo poca o a limite nessuna interazione con le strutture amministrative punto fondamentale che tu sollevi credo che l'unico meccanismo insomma per che la pubblica amministrazione possa cambiare è quella di fare dei progetti anche piccoli insomma tirar fuori dei risultati fare in modo tale che intorno a questi progetti ci sia un apprendimento di sapere cosa abbiamo fatto quali sono gli ostacoli normativi tecnologici di inquadramento eccetera e di portare questa competenza alla conoscenza degli altri insomma però per fare questa cosa su una dimensione grande come la pubblica amministrazione italiana ecco questa è un'operazione molto complessa perché si si scontra contro i muri e i silos dei ministeri contro il diritto amministrativo contro il dubbio che viene avanzato dalle organizzazioni sindacali e allora si può costruire una modalità per cui fai dei progetti questi progetti si diffondono in una maniera anche molto virale insomma anche usando le tecnologie che oggi ci consentono di fare delle cose straordinarie ecco ci sia un momento in cui ci sia un ragionamento insomma sulla selezione delle pratiche migliori piuttosto che quelle che non hanno funzionato che questo percorso avvenga non per imitazione di tecniche specifiche ma proprio di interventi clinici da questo punto di vista per fare una cosa di questo genere occorrono tre cose primo una grande autorità scientifica ecco che paradossalmente insomma noi che facciamo questo mestiere facciamo fatica a imporre alla pubblica amministrazione secondo un programma da questo punto di vista che costruisca le condizioni e il consenso di queste cose Clinton e Gore l'hanno costituito poi dietro Clinton e Gore c'erano degli studiosi ma quello che è avvenuto è proprio stata un'operazione di diffusione molto ampia che ha avuto anche dei costi chiudo su questo quando noi tentammo di fare senza successo un progetto di questo genere nel Ministero della pubblica istruzione questo progetto era diviso in quattro pezzi uno di questi aveva un nome evocativo si chiamava la piazza di Ninive la piazza di Ninive era quella che voi ricordate Erodoto spiega che gli ammalati venivano curati in questo modo si presentavano in piazza e aspettavano che qualcuno passasse e gli domandavano cosa c'è e questa conversazione portava a uno scambio di conoscenze quindi noi diciamo in una struttura così grande come il sistema di istruzione italiana oltre le norme regolamenti eccetera che non servono a niente oltre questo percorso che è sempre stato presente nella scuola gli esperimenti l'apprendimento osmotico ecco come facciamo a rendere questa cosa una cosa sistematica insomma ecco allora costruiamo una struttura virale però per fare questa cosa va costruita gli esperti dei sistemi informativi del ministero quando noi gli presentavamo di queste cose dissero non si può fare insomma perché il calcolatore centrale non lo consente già allora si poteva fare figuratevi adesso figuratevi adesso scusate è un vicolo politico è un vicolo politico però se non facciamo questo avremo un pezzo del paese che va bene e un altro pezzo del paese che non ce la fa ma fatto sì io credo che effettivamente la cultura politica media di questo paese è talmente lontana sideralmente lontana che questo lo si vede in ogni provvedimento in ogni misura di là poi diciamo delle cose anche più grandi sono poi gli interessi ma anche quando come dire il campo è un po' più libero da queste forze che spingono la cultura ha dei livelli bassissimi cosa assai diversa invece da quella che tu trovi nel mondo reale perché poi è vero che il piccolo imprenditore spesso non è così consapevole e non ha fatto dei processi autoreflessivi sofisticati su ciò che fa però li abbiamo incontrati tutti li abbiamo raccontati e tutta la lista che tu hai fatto all'inizio pensando peraltro diciamo sicuramente anche per la tua esperienza più a una dimensione di impresa medio grande ma io l'ho ritrovata in imprese di 10 addetti di 20 addetti di 50 addetti e la ritroviamo adesso stanno facendo una ricerca in Sardegna sull'agroalimentario molto rivolta alle aziende agricole la ritrovi anche nelle aziende agricole nuove e questa cultura però poi diciamo quindi capacità di gestire imprese se no questo paese non starebbe in piedi se sta in piedi anche perché c'è tutta questa gente in giro che lavora vorticosamente poi tutto si scontra sul fatto che intorno in deserto ora per fortuna a differenza del passato questi piccoli imprenditori sanno anche usare internet e quindi sanno cercarsi la consulenza in Finlandia piuttosto che il tecnologo da un'altra parte e in qualche modo si arrangiano mancano totalmente diciamo servizi appropriati consulenze appropriati modelli di accompagnamento appropriati e su questo io vedo veramente grandissime difficoltà non riesco a immaginare quale possa essere un livello possibile di intervento praticabile per venire alla pubblica amministrazione c'è un elemento in più a me è capitato in tutta la storia che ormai è finita dei centri per riempiego di seguirne l'avviamento e l'organizzazione di aver visto anche di buoni risultati allora nella pubblica amministrazione nonostante ma questo succede anche all'università nonostante il fatto che tu pensi lavorando nella pubblica amministrazione che se riesci ad attivare dei processi personale più stabile le norme sono ornone quindi hai una maggiore possibilità di durare nel tempo non è vero basta che cambi un dirigente basta che cambi e tu vedi distrutto tutto anche perché il tempo per consolidare delle culture organizzative non solo di modificare dei meccanismi è un tempo lungo il tempo dei progetti non è un tempo l'Italia ha buttato via al nord dove i soldi sono stati spesi fiumi di quattrine del fondo sociale europeo per l'incapacità totale di passare dal progetto a qualcosa che restasse io sono stata testimone di una quantità di funerali di questo tipo non lo sapevo ho cercato in tutti i modi di vedere se c'era qualche piccolo appiglio non lo so io credo che forse c'è una responsabilità però anche molto del mondo accademico della cultura di tutti noi perché a differenza di altri paesi effettivamente la letteratura su queste questioni è poco diffusa nel nostro paese meno che in altri paesi si scrive poco e si discute poco forse forse è il momento di pensare seriamente di più a un progetto culturale importante scrivere e parlare di queste cose raccontando quel che funziona perché forse è un percorso più lungo non si sa se l'Italia rimarrà in piedi ma non vedo altre strade non riesco a individuare oggi un interlocutore a qualunque livello che sia in grado di prendere in mano davvero a problematiche del genere di reggiorle soprattutto ora che a differenza di dieci anni fa la situazione economica è molto peggiorata il clima politico è fortemente deteriorato boh io non sono così ottimista ma credo però alla necessità forte di un progetto culturale che trovi gambe che riesca a parlare perché non abbiamo mai fatto che forse l'avete fatto voi ma moltissimi altri io ho tantissime cose nel cassetto perché poi sono lavori che fai e anche tutti i consulenti che lavorano presso le imprese col fatto che poi c'è la questione che non puoi parlare dell'impresa perché non pubblichi quello che oppure pubblichi delle cose di tipo manualistico spesso un po' retoriche no? francamente poco utili forse su questo bisogna lavorare non lo so ciao grazie ciao solo un commento su due punti uno questa cosa che tu dici che è anche fatto il progetto buono ecco poi il tema è come lo consolidi e come lo stabilizzi anche quando vanno via le persone questo è un grande problema ed è un problema importante per la pubblica amministrazione ma anche anche per le altre organizzazioni allora nelle organizzazioni taylor fordiste con cui abbiamo combattuto tutta la vita ecco c'era questa forte indipendenza in qualche misura no? della struttura dalle persone no? toltono una persona e la quindi questa è stata anche una forza di quel maledetto modello ecco allora come si fa ad assicurare permanenza no? questo è un grande tema non possiamo però abbiamo studiato questo argomento ci sono ricerche ci sono studi ci sono casi casi positivi il tema politico che tu sollevi è molto grosso e molto importante allora la domanda è quelli che noi incontriamo che hanno una responsabilità ecco su grandi questioni del paese ecco tengono conto di queste dimensioni di cui stiamo parlando oppure no? assolutamente questo è il punto ma allora di chi è la colpa? non dico di chi è la colpa ecco pensiamo il sindacato il sindacato sta cominciando a diventare più attento a queste cose abbiamo in questi giorni discusso del libro dedicato a Trentinnes a Milano che altrove insomma il sindacato sta ritornando alla domanda oltre alla negoziazione che posso fare dentro la progettazione no? quindi ci sono dei soggetti che possono fare che non hanno fatto allora la domanda è è possibile facendo leva sulla drammaticità di una situazione di un paese spaccato insomma in cui c'è un pezzo di aziende che vanno bene un pezzo di pubblica amministrazione che vanno bene un pezzo di lavoratori che sono super eroi e star come li chiamano è un altro pezzo del paese ciao grazie è un altro pezzo del paese invece che va da un'altra parte ecco e che questa cosa ha a che fare con la costruzione di costrutti organizzativi di costrutti di sistemi chiamiamoli come vogliamo ecco che non è sufficiente che non sono sufficientemente noti progettati sostenuti eccetera noi abbiamo cominciato ad occuparci di reti di reti di impresa 25 anni fa insomma adesso si fanno le reti di impresa che va bene insomma molto bene ecco la rete organizzativa come costrutto di sviluppo dell'imprenditoria è una cosa che spesso gli imprenditori se la trovano per caso insomma ecco nelle nostre la confia industria di questo ne parla nel momento in cui sostiene una buona cosa che sono i contratti di rete ma dietro questa cosa non è capito che le aziende che partecipano alle reti sono incomparabilmente più numerose di quelle che siglano il contratto faccio un esempio le camere di commercio se non fanno questo che fanno insomma e la domanda è noi che facciamo gli accademici insomma ecco che facciamo gli accademici cosa fanno cosa fanno perché non si preoccupa di come comunicare tutte queste lecce di tutte le parti e convincere la politica rispetto a questo come mai perché cosa fare come fare si sa chi lo fa sappiamo anche chi dovrebbe farlo ma come passa questa conoscenza come si trasferisce a chi deve fare le cose bellissimi solo una cosa aggiungo perché l'ho trovato centrale che no no l'avevo visto mi scusa no prego grazie e aggiungo solo una cosa a quello che aveva detto appunto il professor Luciano relativamente al fatto della comunicazione anche delle esperienze imprenditoriali io mi sono occupata di studi di caso quindi di aziende italiane anche pregevoli quindi casi di successo da parte accademica secondo me è molto complesso il tema della comunicazione pubblica dei risultati proprio per la questione l'anno nato perché anche qualora tu racconti storie positive storie di successo un conto è raccontarla a un pubblico chiuso in cui non c'è il problema della divulgazione anche di informazioni se vogliamo sensibili per l'azienda è un conto di poterlo divulgare una pubblica amministrazione o un pubblico più aperto perché a quel punto lì invece ci sono tutti i problemi di anonimato e il fatto che l'azienda per prima non vuole che quei dati anche positivi vengano divulgati o vuole magari metterci secondo me questo è un grosso problema è un problema grosso io vorrei dare un poi era lei che vorrei dare due riscontri rapidissimi una quello diceva Vittorio Tesio raccontare queste cose è un problema fondamentale però raccontare queste cose a cominciare da questa difficoltà che lei sta evidenziando adesso comunicare con un linguaggio diverso da quello che usiamo dentro le aziende dentro le amministrazioni dentro l'accademia è uno sforzo importante io per spiegare che cos'è un'organizzazione organica ai miei studenti gli facevo vedere due film uno gli facevo vedere Apollo 13 e gli facevo vedere come si passava da una cosa fantasticamente ben organizzata alla cosa in cui succedeva un incidente Houston via the problem e quindi come non solo quelli che si dovevano salvare la vita che stavano lì sopra ma la interazione con la strutturazione organizzativa culturale straordinaria di Houston ha funzionato e questa cosa noi come studiosi non l'abbiamo mai saputa scrivere questo l'ha scritto questo film l'altro film che vi faccio vedere è questo film di Altman che è The Company ed è la storia di una compagnia di ballo e questo sul lavoro sull'organizzazione delle organizzazioni più simili alle piccole aziende di cui parliamo è un capolavoro che spiega le dimensioni operative le dimensioni strutturali il fatto di avere non avere i soldi per fare le cose la definizione dei processi la parte dei processi hard che sono i movimenti che fanno questi ballerini che sono arditi importanti ecco sono le interazioni tra di loro sono il rapporto tra la dimensione la dimensione della performance e le dimensioni delle persone che si innamorano tra di loro fanno casino eccetera eccetera ecco e poi la dimensione fondamentale della espressività perché queste aziende vincono perché fanno qualche cosa che piace a questi clienti allora c'è un momento di questo film scusate se vi annoio in cui questo capo capo di questa cosa vede la prova e dice avete fatto molto belle siete stati molto bravi però siete stati troppo bellini e questo che vuol dire bellini avete fatto tutto perfetto ma non avete trasmesso niente insomma allora questo è l'arte insomma ma le imprese trasmettono delle cose ma una pubblica amministrazione ha un rapporto con gli utenti quando noi andiamo all'Equitalia piuttosto che all'Inps abbiamo un rapporto emotivamente inquietato non parliamo quando andiamo andiamo in questura abbiamo un rapporto con le procure insomma allora questa modalità complessa insomma come si racconta lei solleva un punto molto importante io non ho la ricetta però credo che ci siano dei dati sensibili come si usa dire no di cui le aziende sono molto gelose insomma che sono i numeri qual è il motivo di loro hanno il timore che i numeri che hai dato li copi il proprio concorrente allora uno nel caso lo può raccontare senza raccontare i numeri ma raccontando il razionale insomma raccontando il percorso raccontando i processi non l'abbiamo mai fatto abbastanza no? sì sì è vero si può fare non l'abbiamo fatto abbastanza sicuramente allora è chiaro che se la comunicazione all'interno della comunità accademica tu questo problema non ce l'hai insomma ecco se è chiaro che tu questa cosa la vuoi la vuoi comunicare ti trovi di fronte a un problema di questo genere però il punto di fondo che è la comunicazione che è i dati eccetera è che noi stiamo parlando non solo di un'emergenza un pezzo del paese va benissimo l'altro del paese arranca come dicevi giustamente ecco malgrado tutto queste imprese queste botteghe questi professionisti se la cavano insomma ma a quale prezzo ci siamo illusi che questa cosa era un momento critico perché c'era la crisi la crisi da parte che non è finita del tutto ma insomma ecco la verità il problema è che adesso finita la crisi noi ci troveremo a una competizione globale in cui se non fanno tutti come come fa la Ferrari o come fa Gucci le aziende scompaiono insomma se non funzionano tutti come la marina militare che raccata l'immigrante insomma e che non chiediamo all'Inps di funzionare allo stesso modo saltiamo in aria salta l'Inps e se salta l'Inps non vi dico che cosa succede ecco allora c'è un'emergenza ed è un conto c'è un'emergenza a fronte di questa emergenza abbiamo questa varietà di cose straordinarie insomma sono molto di più di quelle che noi sappiamo e se noi parliamo con gli operativi ci raccontano delle cose che sono ancora più emozionanti questo libro è pubblicato da Torino Nord-Ovest Annalisa Magone Annalisa Magone scusate io l'ho limitato per c'è questa prima parte di questo libro che è molto bella che racconta queste fabbriche che loro hanno visitato si vede che hanno la passione di far capire che hanno capito insomma ma davvero è sorprendente come funzionano queste aziende il libro di Bertha è straordinario quindi succedono delle cose veramente veramente straordinarie a fronte di questo la domanda è come facciamo a portare gli altri nel passato quando io ero giovane insomma avevamo un grande pregio un grande vantaggio che avevamo il Taylor Fordismo il Taylor Fordismo era un modello chiaro era un modello definito insomma era un modello definito si sapeva come era fatta l'azienda come erano fatte le gerarchie come veniva diviso il lavoro cosa facevano gli operai sulla linea cosa facevano i tecnici come si negoziava insomma quindi come tutto questo aveva un impatto una relazione col mercato insomma si aspettava che gli operai ricomprassero gli automobili siamo andati avanti un modello a cui molti di noi hanno dedicato la vita a fargli la guerra io per primo che crolla non perché fosse ingiusto ma perché non ha tenuto nelle condizioni economico-sociali ma aveva un grande paradigma noi siamo di fronte a una situazione come quella che Marx aveva definito everything is melting into the air cioè sembra che tutto si stia sciogliendo nell'aria poi non era così ma la percezione è che tutto si stia sciogliendo nell'aria cose belle e cose brutte non ce lo possiamo permettere allora la ragione di questa mia forse un po' troppo ingenua insomma per orazione è quella di dire le scienze organizzative insomma che sono la sociologia che si è occupata di organizzazioni l'economia che si è occupata di organizzazioni la statistica che si è occupata di organizzazioni la psicologia eccetera eccetera nelle proprie dimensioni scientifiche e nelle proprie dimensioni dei progetti che sono stati fatti con le aziende con le amministrazioni che i stati eccetera eccetera ecco c'è una responsabilità in qualche misura scientifica da rilanciare in un momento in cui si apriamo il giornale parlano gli economisti parlano gli esperti di finanza parlano i politologi insomma io credo che ci sia non per me che sono vecchio insomma ma per i giovani che ecco c'è il problema di fare questo passo ed il motivo non è solo che non la sappiamo raccontare ci vuole un'organizzazione che non ci siamo dati i nostri studenti quando devono scrivere un paper scrivono un paper perché devono pigliare devono essere valutati rispetto a un certo tipo di meccanismo quando io individuo una rivista severissima insomma noi abbiamo questa discussione del rigore versus rilevanza rilevanza versus rigore è un problema aperto in tutte le discipline però questa è una cosa da fare in questo momento allora l'altro tema che è stato sollevato da Bertha eccetera è quello di dire come facciamo a comunicare con i decision makers ecco su temi di questo genere che pensano di saperlo che pensano di conoscerlo pensano e questo è un altro grosso problema chiudo per dire in attesa che questi problemi diventino una questione nazionale gestita come è avvenuta negli Stati Uniti è venuta in Giappone è venuta in Germania insomma sicuramente ecco la cultura del progetto del progetto compreso della clinica in qualche misura è una cultura che è apportata di ciascuno di noi cioè ciascuno di noi è in grado di gestire un progetto e fare in modo tale che ne ottenga un risultato che in questo progetto ci siano due tipi di esiti un esito di migliorare una situazione e l'altro di fare apprendere le persone che hanno partecipato a questa a questa a questa cosa e questa è una cosa apportata di ciascuno di noi cioè tutti noi abbiamo un progettivo insomma ecco allora riempire l'Italia ecco di progetti insomma avendo anche la forza di dire in attesa che arrivi la legge giusta in attesa che arrivi l'interlocutore fondamentale in attesa che Albor si materializzi anche in Italia nel frattempo io mi sto occupando di una scuola di una classe di un'azienda di un percorso di un progetto di montare un pollo del novecento insomma queste cose sono entusiasmanti questa cultura e questa passione del progetto è un fatto culturale importante insomma e anche qui stiamo attendo secondo me i progetti sono difficili poi ci sono la ricerca operativa il project manager tutte cose che bisogna fare la registrazione il rischio è che questa dimensione progettuale che pure che pure è diffusa e comune ecco diventi un'operazione tecnica di cui non si coglie il valore di cambiamento di apprendimento alla ricerca di che cosa di che cosa c'è dopo questo benedetto taylor fordismo perché ancora non lo sappiamo ce ne saranno più di uno ce ne saranno però come dire il mondo ha bisogno di modelli insomma ecco anche il taylor fordismo non ha mai avuto una soluzione unica Ford funzionava in maniera diversissima da tutte le altre aziende eccetera ecco però in qualche misura avere delle modellizzazioni dell'organizzazione del lavoro credo che sia un punto importante scusate io non l'ho interrotta l'ora è tarde posso fare una impressione semplicemente io mi diceva qualcosa di cui assolutamente vado a pena di non so che dipendere alcuni fatti lei parlava dei modelli io credo che rispetto dell'importanza dei modelli perché oggi non so tanto nel campo di rischio in generale si sente la mancanza di questo vale per le più interessazioni ma credo che sia un problema di un altro tipo credo che noi dovremmo come consulenti come persone che lavorano nelle imprese nelle organizzazioni perché non anche le università dovremmo fare un altro sforzo di ascolto di ascolto perché quando si va a parlare con gli imprenditori particolari con piccoli imprenditori bisogna avere un atteggiamento diverso da quando si va a parlare con un grande dirigente della grande azienda perché è tutto molto più semplice un linguaggio comune con i grandi dirigenti che hanno fatto più in omano gli stessi studi le stesse esperienze così quando si va a lavorare con le piccole e le imprese bisogna innanzitutto conquistare la loro fiducia la loro fiducia vuol dire sapervi ascoltare e qui sapere anche dimostrare che si lavora nello stesso campo con un centro di risultati con un tempo molto 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 alto e quello che ho visto è che in realtà le cose più interessanti non è che nascono nelle conversazioni nelle difficili ma nascono poi quando si va a prendere uno sprizzo insieme nella piazza nelle piazze del Veneto oppure quando si va a prendere un caffè in fabbrica in stabilimento e ti dicono guarda ho avuto questo problema e ho fatto questo errore per esempio puoi dare una mano perché aiutami a trovare quel consulente magari un filano perché ho fatto tanti di quelli tantini che non riesco allora credo che uno dei nostri problemi è lì proprio per essere credibili è il saper ascoltare in maniera di adesso ci ha insegnato che per comunicare prima bisogna saper ascoltare e credo che se ascoltiamo se riusciamo a capire le cose dette anche le cose che non sono dette perché molte cose non sono dette per tanti motivi forse riusciamo a capire qualcosa però credo che ascoltare se c'è le cose più difficili a me per quanto riguarda lei solleva un punto importantissimo sono una battuta su questo l'ora è tarda e non voglio tenere più questo è un grande problema per le piccole e medie imprese imprenditori ma questa è una cosa che per esempio noi abbiamo visto anche in un periodo diverso ecco sul lavoro operaio e sul lavoro contadino cioè per farci raccontare il lavoro contadino e il lavoro operaio non facevamo mica i manzionari il libro più bello sul miglior profilo professionale che è mai stato scritto è la chiave a stella di Primo Levi insomma in cui Primo Levi racconta delle cose avendo ascoltato questo cristiano insomma che sicuramente non era ordinato non era preciso ecco ma ti racconta la sua quindi da questo punto e questa un'altra cosa questa cosa c'è si chiamano work studies c'è un'area delle nostre discipline che si chiama work studies che fa queste cose sui medici sui infermieri sui designer sugli imprenditori la domanda che pone Vittorio Tesi è importante ma questa cosa come facciamo a raccontarla insomma e come facciamo a dire che questa cosa è importante che questa cosa non serve per finanziare una ricerca che aiuta il nostro ricercatore a migliorare la sua posizione accademia questa cosa è produzione questa cosa è risoluzione questo per esempio torno a dire non per fare delle situazioni ma nel mondo medico questa cosa è più forte cioè i programmi di ricerca sono dei programmi la cui rilevanza è più visibile voi mi direte ma perché c'è la salute la salute è la prima cosa ma il mantenimento del sistema economico italiano e della pubblica amministrazione anche anche perché se no la salute la salute grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti